E qui siamo dopo un temporale abbastanza violento, probabilmente di ieri sera, oggi è il 15 maggio. Vediamo che la situazione è piuttosto complicata, perché probabilmente la confluenza di vari fronti d'acqua e hanno praticamente smantellato tutte le sponde del lavoro che è stato fatto recentemente. Infatti qui che siamo all'inizio ha lavorato sotto e ha spostato anche qualche sasso, cosa che fortunatamente non è venuto dopo, mentre invece tutte le sponde sono state tutte rimosse, perché sicuramente veniva giù un bel clusso d'acqua che ha portato via tutta la terra che probabilmente era terra riportata. E lo stesso è accaduto anche qui qua, come si può vedere anche qui sotto, probabilmente scendeva anche qui un bel fiume d'acqua, ha portato via tutto. Quindi ci sono sicuramente tutte le sponde da ripensare. Il letto, per quanto è possibile, è rimasto abbastanza integro, però a quanto pare non è sufficiente raccogliere la quantità d'acqua che si riversa qui, quando ci sono eventi come quelli di settimana scorsa e quelli di ieri. Adesso praticamente lì non è protetta per niente. Ieri con il video che ha fatto Fabio si vedeva tantissima acqua da queste parti. Qui è tutto distrutto. Dove ci troviamo? Ci troviamo nella valla di Campoviorenza. E perché siamo qua? Siamo qua perché vediamo... Il disastro che ha provocato. Il disastro che ha provocato. In che data siamo? Siamo oggi, abbiamo 20. 20 maggio 2017. Ci guardiamo intorno e vediamo che in effetti qui l'acqua ha fatto il suo corso e ha distrutto tutto quello che c'era. Ci avviciniamo ai lavori e ci accorgiamo che ha peggiorato ulteriormente. E dopo che fa... Non so se ha scavato. Sotto qua sta riniziando a scavare. Sta cominciando a fare ancora buco. Andiamo a vedere. Passiamo di là. E qui si è liberato. Andiamo a vedere dalla parte opposta che cosa ha provocato. Si era tutto pieno era tutto all'acqua arrivò a fine è nato qua dal video si vede eh. Era tutto un lago. Tutto completamente. Tutto completamente l'acqua. Ciao che scavalchiamo andiamo di là. Perché che sbuia guarda che lo fa di... Fai dei rallentati dei salti. E di così fa... Sì sì qui fa ancora la voragine. Qui qui devono mettere i cassoni con dentro i massi. Tutta quella voragine qua è destinata ad aumentare. Dici? Sì è destinata a aumentare. No ma qua c'è larga eh.